La penultima di campionato è finita con un pareggio, un 1-1 in trasferte in casa del Vasan. Quasi un allenamento in vista della serata europea di Torino, dove l'Helsinki si giocherà le residue speranze di rimettersi in careggiate in Europa League. I finlandesi un mese fa hanno vinto il loro campionato con quattro giornate di anticipo e il sesto titolo consecutivo, il 27esimo della loro storia. In Bacheca anche 11 coppie di Finlandia e quattro coppie di Lega. In Patria sono la squadra da battere, in Europa faticano e dopo due gare sono ultimi nel girone con zero punti e cinque reti al passivo. Eliminati dall'Apoel nel secondo turno dei preliminari di Champions, hanno conquistato la fase a gironi a spese del Rapid Vienna, 2-1 Helsinki e addirittura 3-3 in Austria. Un risultato che ha fatto comodo anche al Toro e il Rapid aveva un coefficiente superiore ai Granata, che sono così riusciti ad entrare in terza fascia proprio prima dei sorteggi. Le uscite di Coppa hanno confermato le impressioni della vigilia. L'Aelsinki è la squadra meno insidiosa del girone, ma non per questo da sottovalutare. Il doppio impegno con il Toro è l'ultima occasione che i finlandesi hanno per dare un senso alla partecipazione alla UEFA. E proprio tra andate e ritorno il Toro dovrà fare i punti e i gol per mettere al sicuro il suo passaggio di turno, approfittando del concomitante impegno del Brugge capolista con il Copenhagen. Punti di forza della squadra di Mikael Ecosu sono i nuovi acquisti Anthony Hannan, centrocampista che ha militato anche nello Schalke 04, e l'attaccante Ristit Bansè. In rosa anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, il portiere spagnolo Antonio Doblas, lo scorso anno terzo del Napoli, dopo aver difeso le porte di Real Saragozza e Betis Siviglia. Grazie.